Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti qui in questo evento così ricco di appuntamenti e anche in concomitanza con questo nostro appuntamento sulla scuola e quindi ci fa piacere, non è immagino facile seguire tutta l'offerta di questo bellissimo festival. Io sono Lorenzo Benussi, mi occupo di innovazione didattica in Fondazione Links e Fondazione per la Scuola, gruppo Compagnia di San Paolo e abbiamo organizzato oggi questo incontro per parlare di cambiamento all'interno della scuola in modo credo abbastanza dettagliato e poi vedremo. Ci sono qui con me la professoressa Giulia Guglielmini che è la presidente di Fondazione per la Scuola che ci racconterà un po' i suoi commenti rispetto ai due interventi che avremo oggi con la professoressa Lidia Cangemi che è dirigente scolastico del liceo Kennedy di Roma, formatrice, coach, autrice e molte altre cose. Ci racconterà un po' la sua esperienza e la lettura che è anche informativa credo per molti di noi che forse alcuni aspetti non conoscono del piano scuola A4.0. Poi abbiamo la professoressa Susanna Sancassani che è docente di innovazione didattica, poi vi spiegheranno magari meglio loro nel dettaglio, al Politecnico di Milano che appunto ha come obiettivo nella sua vita, carriera, quella di spiegare a noi che cosa voglia dire fare innovazione didattica e qui ragioneremo con lei su come mettere insieme le varie componenti di quella ricetta complessa che serve per portare cambiamento nella scuola. C'è un video? Fantastico. No, non c'è un video, perché gli altri avevano il video, noi no? Ok, scusate, mi piaceva molto. Chi di voi lavora nella scuola? Perfetto, quasi una metà. Per cui gli altri immagino siano persone che a scuola ci sono passate o che hanno interessi legati a... Non vogliono più tornarci, esatto. Ma io a questo punto faccio una breve introduzione e poi lascio la parola ai nostri ospiti. Saranno due presentazioni intorno ai 15 minuti, alla fine delle quali potete già fare delle domande e poi avremo una sessione di domande alla fine. Non siamo molti, quindi alzate la mano e sarà nostro piacere ascoltare appunto i vostri quesiti. Ma inizio dicendo perché abbiamo pensato questo incontro. Io lavoro in un'organizzazione filantropica da alcuni anni che supporta le scuole in tante cose. Sicuramente le supporta a cercare di migliorare, di innovare, di essere più inclusive. E ci troviamo in un momento storico abbastanza strano. Perché quelle che prima erano istituzioni sostanzialmente con poche risorse adesso sono diventate a causa o grazie a una serie di cose istituzioni che hanno molte risorse, molte risorse economiche. Molte di più di quanto una grande fondazione bancaria come Compagnia di San Paolo normalmente investe in un paio d'anni. Per cui è una situazione abbastanza strana dal punto di vista dell'organizzazione per cui lavoro. E quindi è necessario cambiare le pratiche e adattarsi a questo. È un momento storico. Non sappiamo bene come affrontare questo momento e come svolgere la nostra funzione di supporto al sistema e di miglioramento del sistema educativo. Ci interroghiamo e quindi cerchiamo di interrogarci con la comunità. Che siano le scuole, che siano gli atenei, che siano gli insegnanti. Sicuramente la sfida è molto rilevante. E io direi almeno per due motivi. Il primo perché le forme di investimento che abbiamo ereditato dall'Europa sono nuove. Il PNRR non è il bando che conoscevamo. Ma ha delle caratteristiche, se vogliamo dire performance based o comunque legate ai risultati. Non devi, come era una volta, fare un progetto, presentarlo a una commissione e poi questo viene finanziato. Ma devi cambiare, addirittura cambiare la tua scuola secondo dei parametri misurabili nel tempo. Altrimenti non ti danno i soldi. Detto in modo molto semplice. Ovviamente ci sono diverse sfumature ma il concetto è un po' questo. La richiesta è quella di un cambiamento strutturale, sistemico, che duri nel tempo. Badate bene con un finanziamento puntuale invece in un anno. Quindi c'è una certa dissonanza tra questi due concetti. Il secondo aspetto assolutamente rilevante è che noi usciamo da una pandemia che ha, io vedo almeno, portato due fenomeni. Una grossa messa in discussione della didattica e in generale di tutti gli aspetti della scuola. E una grandissima accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie. Ieri ho passato una giornata con un signore indiano che vive a Londra, che si occupa di education in vari posti del mondo. E gli raccontavo appunto il tasso di adozione delle tecnologie in Italia. E la quantità di investimenti è eccezionale. Non ci sono paesi che in modo così massiccio stiano investendo sul sistema educativo. In Inghilterra, ad esempio, il recovery plan non esiste. In Francia è di un ordine di grandezza inferiore. Quindi abbiamo da una parte la pandemia che ci dice dobbiamo cambiare, l'abbiamo visto, e dall'altra moltissime risorse. Ma due settimane fa, tre settimane fa, era a Genova in una scuola a fare dei workshop con dei docenti e la scuola era veramente mal ridotta a livello di spazi. Un bellissimo palazzo dell'Ottocento fatto tipo a cinque piani piccolissimi in cui c'erano delle microaule ma un enorme cortile all'interno con uno scalone aulico. Cioè uno spazio veramente inadatto a fare didattica. L'atrio era completamente pieno di casse di digital board. Saranno state cento casse di digital board appena arrivate che sono, per chi non lo sa, schermi interattivi abbastanza costosi. Era molto dissonante vedere uno spazio inadatto a far scuola con un'infrastruttura assolutamente inadatta a far scuola e centinaia di migliaia di euro accantonati, messi lì. Quindi c'è un problema di struttura e sovrastruttura. E questo è molto difficile da gestire, è uno degli aspetti che vedremo anche oggi. Perché da una parte tu hai 200.000 euro per fare sovrastruttura, cioè comprare gli schermi, e dall'altra invece devi gestire problemi strutturali come il personale, gli spazi, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo un grosso impulso economico e di policy, un grosso impulso post pandemia, e questa difficoltà di doversi un po' arrabattare in un sistema che non trova la soluzione alla carriera dei docenti, per dire un tema molto molto rilevante, ma ti dà dei soldi per fare delle cose. Qual è probabilmente la soluzione in questo? Non ce n'è una. La soluzione è certamente legata a ogni istituto scolastico, ma è avere un approccio sistemico e gestire un processo di cambiamento nel tempo. Per cui da una parte ragionare sui bisogni della scuola e su come queste tecnologie si inseriscano in un disegno. Un disegno che però deve essere progettuale, cioè avere un tempo di realizzazione degli attori, degli output, altrimenti ci perdiamo. E ci perdiamo queste risorse o comprando tecnologia che non ci serve, perché queste sono tecnologie di digital board, dopo cinque anni li butti via, sei anni li butti via, cioè una roba abbastanza complicata anche da accettare. Però se invece in quei cinque anni cambio il modo di fare scuola, poi magari trovo anche le cambio, trovo il modo di mettere a profitto effettivamente quell'investimento. E per cui ragionare in un'ottica progettuale è ragionare su come le tecnologie possono effettivamente modificare la didattica. non far vedere quello che prima facevo vedere alla lavagna, poi facevo vedere alla LIM 1, poi alla LIM 2, adesso alla digital board uguale, identico. Non è cambiato nulla. Se non facciamo queste cose, cioè se non le utilizziamo per cambiare, l'idea è che l'Europa non ci dia i soldi, per cui lo Stato va in default. Questo è il grosso rischio. Volevo un po' caricare l'argomento e ricomunicarvi l'urgenza di questo, perché credo sia un po' rilevante. Noi come fondazione, ma non solo la fondazione per la scuola, anche il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino sicuramente, un sacco di attori, le reti di scuole stanno producendo materiale perché il sistema affronti questa sfida nel modo migliore. Credo che sia rilevante, in un caso come questo, spero utile, mettere insieme queste forze, parlarci e cercare tutti insieme di risolvere questo grosso problema. O grande opportunità, possiamo vederlo in tutti e due i modi. Detto questo, lascerei la parola a Lidia Cangemi, anche perché ci racconti un po' che cos'è il piano scuola e punto zero e faccio un ragionamento dal punto di vista di un dirigente che deve gestire un processo, sia sulla scuola, sia soprattutto sugli ambienti e come essi possono diventare tecnologie per l'apprendimento e come siano rilevanti in questo processo. Grazie. Grazie, grazie Lorenzo. Grazie per questo invito, io sono abituata a stare in piedi quando faccio formazione, perdonatemi, è per me più comodo. Ho cercato di sintetizzare questo tema appunto con poche slide, così ci può aiutare, il visivo ci aiuta ad apprendere. E appunto sono Lidia Cangemi, sono un dirigente. Diciamo che nelle mie anima c'è la mia facoltà, c'è architettura. Io vengo da Architettura, di Roma, Sapienza, un po' sdottorato, vabbè, tante cose che ho fatto lì. E soprattutto poi ho cercato di aggiungere a questo una formazione tipo da counselor. Perché dico questo? Perché grazie a tutte queste cose, dieci anni fa è nato quel simbolo lì, questa è Dada, didattiche in ambienti di apprendimento. Dieci anni fa, quando poco si parlava di ambienti di apprendimento, si parlava solo in ambienti, diciamo, un po' più selezionati. e pensiamo, insieme al collega Fattorini, a un modo per vedere la scuola in modo diverso. Nasce quindi Dada, l'acronimo è importante perché significa didattiche in ambienti di apprendimento. Quindi il tema che oggi affronteremo, che è proprio gli ambienti di apprendimento, era là già dentro. Perché lo portiamo, perché vi parlo di questo? Perché vedremo che poi il tema dell'ambiente di apprendimento è il tema centrale di questo oggetto qui, che è appunto il piano scuola 4.0, che fa parte appunto del PNRR. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un documento che parla di un investimento enorme per la scuola, come mai si è visto nella storia della scuola stessa, che ha nelle sue premesse già i suoi, diciamo, gli elementi fondamentali. Premetto che non sono uscite le linee guida, per cui non sappiamo esattamente come verrà declinato, però là dentro c'è tante tante cose. Quindi leggere il documento ci può aiutare molto, anche nel comprendere dove siamo. Si parla del fatto, per esempio, che gli ambienti di apprendimento devono essere connessi a una visione pedagogica. Già qui c'è un nodo centrale della faccenda, cioè l'ambiente di apprendimento non può essere confuso con lo spazio e non può essere confuso neanche ancora di più con l'aula. Ambiente di apprendimento non è né aula né spazio, è qualcosa di più di quello. Poi parliamo di flessibilità, di molteplicità di funzioni, collaborazione, inclusione, tutte quelle belle parole lì. La scuola sostanzialmente, la scuola del si è sempre fatto così, è una scuola basata su un'architettura sostanzialmente fatta di corridoio, corridoio, aula, 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 aula. Questo schema reiterato architettonico che porta poi una reiterazione, siamo in un ambiente che ben ci racconta questo, e una reiterazione come vedete, ma qui siamo per fortuna in un'aula universitaria, ma questo immaginatelo per bambini piccoli, questo schema verticistico in cui il docente sta al centro di una raggera, sostanzialmente in cui le faccette di queste povere creature guardano tutti lui, e fra loro, come disse appunto brillantemente un mio ragazzino un po' di tempo fa, quando vennero a fare un visiting dada, diceva ma io nell'altra scuola del mio compagno vedevo solo la nuca. Ora questo tema è fondamentale, l'architettura, lo spazio fa, entra nella nostra sistema persona, ci dicono le neuroscienze, e quindi in qualche modo quella flessibilità di cui parla, e non a caso ho cercato di metterlo in rosso, significa che la lezione, o le lezioni, o ancor meglio le didattiche, sono tante, perché tante sono le intelligenze, perché tanti sono i momenti, perché ci può essere la lezione frontale, ci può essere il coperet, eccetera. Come possiamo uno spazio rigido, diciamo farlo diventare padrone della nostra azione didattica? Continuo dicendo che ovviamente il documento non può che parlare di formazione, organizzazione del tempo, ecco questo è un altro elemento fondamentale, su cui un giorno dovremmo fare tante riflessioni, perché l'altro elemento rigido della scuola, la cosiddetta campanella, i trimestri, le votazioni, tutte queste cose, e poi ovviamente si parla molto del ruolo del dirigente, del coinvolgimento attivo dell'intera comunità. Queste sono le parole chiave di questo documento, che parla appunto di un finanziamento solo per scuola 4.0, eccetera, eccetera, e 2,1 milioni di euro. Per cosa? Per la trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi. una grossa cosa. Nell'area background, in queste pagine, ci sono appunto le considerazioni sullo stato dell'arte. Ora che cosa ci dice il documento? Che accanto alla progettazione fisica, vi ricordate quando ho detto non bisogna confondere ambiente di apprendimento con spazi, ancor meno con aula, perché non parliamo solo di questo, speriamo di non parlare solo di questo, parliamo di come innovare il nucleo pedagogico. E questa è la grande sfida. come questo sistema può diventare un momento in cui ripenseremo la scuola per il futuro. Questi sono i sette principi dell'apprendimento Ocse. Molto interessante perché sta nel documento, non l'ho preso a parte, poi vi dirò quando le cose sono prese da altre fonti. Perché è così interessante? Perché è proprio l'idea che si parli finalmente di ambiente di apprendimento, che era appunto l'ultima A del Dada. Perché è così interessante? Perché finalmente smettiamo di parlare di come si insegna e cominciamo a parlare veramente di come si apprende. Che è tutta un'altra cosa. Non è detto che un insegnante faccia apprendere, lo sappiamo benissimo. Molti di voi sono molto, molto giovani, avete molto fresco questo concetto. e quindi come i principi dell'apprendimento possono entrare nel nucleo pedagogico delle scuole possono diventare patrimonio veramente dei docenti che magari si sono formati 20-30 anni fa e che non è detto che conoscano quello che le neuroscienze ci hanno insegnato sul modo in cui si apprende. Allora nei sette principi ovviamente si parla della centralità del docente, si parla di tutto l'apprendimento cooperativo, del ruolo delle emozioni. Finalmente parliamo di questo terzo, questa terza dimensione dell'ambiente di apprendimento. Si parla del discorso delle differenze, dei sovraccarichi di lavoro e dei feedback formativi e della comunità. Questo è lo schema che porta il documento pagina credo 24. Beh, io devo dire che la prima volta che l'ho visto sono stata felice perché esattamente questo è quello che dieci anni fa pensammo con Dada. Vale a dire che le aule siano disciplinari, non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di avere l'aula di matematica, di fisica, di filosofia, di scienze. Questo è sostanzialmente e come questo porti tutte queste cose, cura dello spazio, valorizzazione, personalizzazione, adattabilità perché poi il setting, eccolo qua, invece di essere sempre lo stesso, così, è flessibile perché può essere appunto frontale ma anche partecipato, ma anche cooperativo, ma anche di discussione. Come facciamo a imparare bene l'inglese se siamo sempre in questo setting qui? Quando facciamo conversazione abbiamo bisogno di un altro setting, abbiamo bisogno per esempio di un'aula insonorizzata. Il documento ci dice come lo spostamento è funzionale all'apprendimento e come gli spazi di apprendimento devono essere anche emotivi ed informali. Meno male, meno male, cominciamo a parlarne di questo. Ovviamente, oltre alla tecnologia, tutto lo spazio è all'aperto. Quindi il grande tema è quando dovremo affrontare, come dirigenti, ma come utenti, come comunità, come Italia che sta spendendo, come Europa che ci ha consentito di spendere, dobbiamo affrontare il grande tema. Che scuola siamo? Dove siamo in questo momento? Qual è lo stato dell'arte? Qual è il punto nave? E nel sintetizzare questo ho usato quest'acronimo che ho inventato un po' di anni fa e che mi piace tanto, di solito piace, che è QCA, cioè quello che abbiamo. Noi dobbiamo partire da quello che abbiamo. Cosa abbiamo? Abbiamo degli spazi, abbiamo delle persone che appunto possono essere di supporto, possono essere delle reti di scuole, le fondazioni, le scuole viciniori, la comunità intera, i nostri professori. Una delle cose che dovremmo fare sicuramente è pensare come nelle scuole si creino dei gruppi di progettazione. Perché questa cosa non va confusa con un prodotto, va assolutamente segnata questo come un processo. Se lo vediamo come un processo potremmo arrivare ai prodotti, altrimenti ci venderanno l'ennesima LIM, l'ennesima schermo, l'ennesima qualcosa. Questo è un processo e per fare un processo ci vuole ovviamente una progettazione, un progettare, un progettare oltre. Chi lo farà? L'altro elemento fondamentale a mio parere è la mappa valoriale. Che scuola siamo dal punto di vista più profondo? Che valori incarniamo? Il valore dell'inclusione, il valore del rispetto, il valore, non lo so, della incredibile tecnologia, alcune scuole hanno quello e varie. E quindi poi da questo, che scuola vogliamo diventare? Questi sono i grandi temi che le scuole si troveranno a dover affrontare. E per fare, appunto, per comprendere meglio quali siano le tre dimensioni degli ambienti di apprendimento, queste possono essere sintetizzate con la dimensione organizzativa, di cui diremo due parole. La dimensione metodologica, quel nucleo pedagogico, eccetera. E poi la dimensione relazionale, che è quella forse meno evidente agli occhi, ma come diceva Antoine de Saint-Exupéry, è proprio quella la parte più importante. Come io mi impongo di fronte allo studente, lo sappiamo tutti, i docenti migliori, ma gli studi ce lo confermano, sono quelli empatici, quelli che entrano in relazione. E allora su questo si giocherà la grande partita, a mio parere. Ora, qui ho messo degli spunti per la dimensione organizzativa, non è né esaustiva né completa, ma sicuramente il discorso di lavorare sulla gestione flessibile del tempo, sull'aula all'aperto, sul visual learning e mille altre cose, sono sicuramente degli spunti di riflessione che noi come Scuole Dada diamo alle nostre scuole. Ora, se questo è abbastanza facile, cosa hanno fatto le scuole nel frattempo? Ho portato degli esempi, perché quello che poi ci interessa molto è il fatto che appunto non esista solo lo spazio aula, quello è uno degli spazi, ma che la scuola può comporsi di spazi e questo comporsi di spazi fa sì che le scuole siano più funzionali, siano più funzionali e supportive, perché quello che poi è lo scopo vero di un ambiente d'apprendimento è che sia funzionale e supportivo. E allora sono solo esempi, perché questo è tratto un po' da un bel documento che è stato fatto dalla regione Emilia Romagna che ci dice come gli spazi dovrebbero essere non solo l'aula, ma per esempio degli spazi dinamici e quindi come nei luoghi di passaggi poi ci si incontra. Questi sono i ragazzi di una scuola media che stanno mettendo le cose nell'armadietto, come negli spazi di fronte alla scuola poi si possano creare relazioni. possono essere zone di comunità appunto come con 12 morbidi messi in una biblioteca si crei uno spazio che è uno spazio diverso, uno spazio di conversazione, di incontro, occhi negli occhi finalmente, come con pochissime monete perché questo appunto tutto fatto prima del grande della grande così dovizia di denari che dovrebbe arrivare nelle scuole, questa scuola ha comprato queste tribunette e qui ci fanno debate, fanno coro, fanno poesia, fanno tante cose. Accanto a questo documento un altro documento che se vi piace questo argomento vi consiglio di guardare è un documento sempre del ministero si chiama Futura progettare, costruire, abitare la scuola è fatto per le scuole del futuro e saranno costruite non mi ricordo più quante scuole mi pare 24 scuole ma comunque sono costi inenarrabili il documento è bellissimo potete trovare tanti spunti sulle scuole del futuro uno di questi che vi ho portato è una scuola per chi ci lavora quando mai si è parlato d'ambiente di apprendimento comprendendo che il benessere del docente è benessere della scuola e quindi è benessere dello studente è benessere del dirigente è benessere del genitore questi esempi ci raccontano di come in tanti modi diversi si fa benessere vorrei solo porre l'attenzione sulla correzione acustica perché spesso nelle nostre scuole si sta malissimo dal punto di vista acustico e poi le zone di scoperta a tutti i livelli scuola elementare scuola media scuola superiore quattro tavoli ma questo serve ai ragazzi serve confrontarsi serve esercitare quella curiosità nell'apprendimento che poi è vero apprendimento e poi le zone di progettazione questa è una scuola appunto che con pochissimi ha fatto questi ambienti di piccole bibliotechine e la zona del silenzio che è una delle cose forse più avanzate forse su cui bisognerà tanto lavorare ma se tanto abbiamo questa appunto forse sovra eccitazione sovraccarico di lavoro quel sovraccarico di cui diceva l'Oxe forse pensare a spazi per il silenzio per rallentare per stare anche a leggere qualcosa è utile e poi infine la cosa io amo tantissimo tutti gli spazi all'aperto si è dimostrato che tutto ciò che è outdoor fa stare bene e quando uno sta bene apprende meglio e quindi quale migliore ambiente di apprendimento dell'esterno questa è stata la grande conquista per fortuna durante il covid perché le scuole hanno scoperto finalmente di avere aule all'aperto avere spazi all'aperto i più diversi tre esempi completamente diversi questo professore di analisi matematica che fa lezione nella nostra aula all'aperto questa è una scuola media e questa è una scuola superiore con questa bellissima soluzione due parole su questo una scuola fra dentro e fuori perché ovviamente anche scuola futura parla dell'esterno e questa vasca ve la faccio vedere perché questa vasca ha un potere magico secondo me questa vasca è stata progettata per una ragazza disabile in carrozzina proprio perché potesse partecipare con tutti i suoi compagni a fare l'orto didattico e questo lo trovo meraviglioso perché proprio le soluzioni che lo spazio consente sono soluzioni anche inclusive perché io l'ho vista non ho fatto la foto perché non mi sembrava il caso la ragazza qui e tutti i compagni intorno che facevano insieme scuola tutto l'educazione sensoriale finalmente è una delle grandi diciamo sfide che avremo per il futuro perché soprattutto i bambini i ragazzi sono poco educati ai loro sensi e non essere educati ai propri sensi significa non sapere stare nel sentire sentire è quello che ci abilita poi ad apprendere sono quasi alla fine dicendovi che appunto l'altro asse Next Generation Labs sono altri non so quanti milioni di euro di nuovo anche in questa cosa si parla di pedagogie innovative connesse metodologie didattiche ma qui appunto ci legheremo perché quello di cui abbiamo bisogno è un cambiamento progressivo del processo di insegnamento anche introducendo tutto ciò che appunto sono pedagogie innovative questi sono docenti che stanno facendo un laboratorio poi continuerà un laboratorio di lego sono stati entusiasti felici finalmente hanno riscoperto le loro mani che fanno insomma la grande domanda è questa che scuola saremo questa è la grande sfida questa è la grande opportunità questo è il momento storico per cambiare la storia per cambiare la storia della nostra nazione e dei nostri cittadini il futuro è tutto da scrivere grazie grazie colgo l'occasione visto che abbiamo un po' di tempo di farti una domanda velocemente poi di passare la parola a Susanna San Cassani e anche magari al volo di raccogliere se avete una domanda veloce se no poi le facciamo dopo la mia domanda è molto semplice qual è la reazione che tu hai vissuto e vedi in giro per l'Italia degli utenti della scuola i ragazzi e le famiglie rispetto a una modificazione forte come è quella di avere aule disciplinari per cui gli insegnanti di matematica sta lì e tutti girano all'interno di una scuola che effetto fa dall'esterno da chi fruisce di quella scuola grazie noi siamo spesso scuola oggetto di visiting ci vengono a trovare le nostre scuole che sono già data da tempo beh la risposta più comune che danno i ragazzi è beh siamo contenti perché almeno ci sgranchiamo le gambe questa era la risposta più comune da quelli più piccoli a quelli più grandi cioè l'idea che il movimento attivi l'attenzione e la concentrazione loro ce l'hanno in maniera ovviamente sensorialmente profonda cioè lo sentono poi ci sono quelli appunto che hanno dato delle risposte molto più raffinate tipo appunto quelli che ci hanno detto ma io vedevo solo la nuca del compagno un ragazzo che è tornato invece dall'estero e che è andato in una scuola che non era data ci disse ah io non in perfetto romano per cui così la dico senza traduzione simultanea disse io non me posso da pace che devo guardare lo stesso muro sei ore al giorno cioè ragazzi noi abbiamo siamo percezione e quindi ovviamente il fatto di stare seduti sei ore io sento scuole che addirittura fanno stare durante la ricreazione seduti ragazzi ragazzi io non so se rischiamo la rivoluzione perché come può un ragazzino di 12 13 16 anni 18 stare pensare di stare seduto allo stesso banco alla stessa sedia aggiungo una cosa che non ho avuto il tempo di dire ma solo per grazie alla tua domanda una delle cose più interessanti che Università Sapienza ha studiato quando abbiamo iniziato il modello Dada è stato lo studio sulla geografia della classe nel momento in cui si disponevano in aula perché ovviamente i ragazzi entrando hanno fatto un po' quello che avete fatto voi ognuno si è seduto dove ha voluto questo è molto interessante perché guardare questi schemi significa capire molto degli schemi relazionali capire molto di chi è d'accordo con chi e quanto sei appunto più vicino più lontano questa cosa ovviamente non è possibile una scuola tradizionale in cui i posti sono assegnati in cui si sta appunto in fila e ordinati sentendo lezioni frontali grazie e se non ci sono domande adesso ovviamente questo è uno degli esempi di cosa si possa fare con il spazio ce ne sono anche altri però è estremamente significativo e chiaro e questo piano queste policy del nostro governo del nostro paese possono essere l'occasione per fare cambiamenti anche radicali all'interno di un sistema apparentemente immobile quello che cercavo di dire prima tra struttura e sovrastruttura per cui anche se tutto rimane com'è però faccio delle piccole cose e cambio veramente veramente molto il messaggio è un cambiamento sistemico che non sia soltanto ma che vada a lavorare proprio sul modo in cui i ragazzi si apprendono e quindi gli insegnanti insegnano come le spazi le tecnologie si relazionano con la didattica e su questo passerei proprio la parola a Susanna Sancassani che ha una lunga esperienza di ricerca e insegnamento su questi argomenti e che ci racconterà un po' le sue riflessioni quelle del suo gruppo di ricerca al Politecnico di Milano e anche un po' di iniziative che anche loro forse stanno facendo per supportare le scuole prego soprattutto ho una lunga esperienza di fare perché in realtà l'insegnante è il mio terzo lavoro io insegno teaching strategies ai nostri studenti di di dottorato tengo cose di digital learning ma il mio vero lavoro è far funzionare questo gruppo di attività ricerca sperimentazione e servizio che si chiama METOID metodi e tecnologie innovative per la didattica e queste sono le direzioni sulle quali lavoriamo ma vorrei andare subito alla sostanza perché mi ritrovo assolutamente con la relazione appena fatta io quando ho visto queste linee guida del PNRR ho avuto veramente un mancamento perché ho detto mamma tutti questi soldi su uno solo dei fronti allora e non necessariamente quello che trascina di più nel senso che nel momento in cui noi vogliamo lavorare davvero nel trasformare i processi di apprendimento quelli di insegnamento ci interessano di meno ci interessano i processi di apprendimento come le persone imparano dobbiamo necessariamente confrontarci in modo integrato su tre dimensioni che è quella pedagogica e poi didattica quella tecnologica e quella degli spazi ma queste tre devono andare avanti insieme aggiustandosi reciprocamente e se decido di partire da una a caso senza toccare le altre parto per esempio da quella degli spazi importantissima ma non tocco le altre mi ritrovo dopo poco tempo con quello spazio libero informale aperto alla collaborazione che viene impacchettato in qualche modo in una forma rigida che riproduce il modello originario per far sì che davvero ci sia un cambiamento nel processo di apprendimento devo lavorare su tutte e tre dimensioni insieme noi suggeriamo anche un'altra cosa che ci va anche uno sfondo di policy cioè nel senso che siccome per un sistema educativo così solido e strutturato come quello che abbiamo per riuscire a fare comprare davvero dei passi evolutivi è necessario un investimento tale di come posso dire di ideazione di creazione di produzione che se non viene sostenuto da un processo di open education nel giro di poco tempo diventa non più sostenibile quando parlo di open education parlo di tutte quelle prassi che riguardano le tecnologie gli strumenti i contenuti didattici le strategie didattiche ma anche riguardo agli spazi le strategie di organizzazione degli spazi eccetera che possono essere codificate e rimesse a disposizione di tutti allora siccome quando dico queste cose poi sembrano un po' teoriche e utopistiche vi racconto noi come ci abbiamo lavorato in questi anni allora sul tema degli spazi e vi faccio proprio l'esempio della realtà della nostra università noi abbiamo inizialmente lavorato trasformando uno spazio cioè abbiamo preso lo spazio che avevamo a disposizione come centro di learning innovation e l'abbiamo trasformato in uno spazio che fosse davvero favorevole a degli apprendimenti attivi e collaborativi che vuol dire lavorare sull'involucro in modo che sia adeguatamente fonossorbente e isolato acusticamente dall'esterno vuol dire lavorare non al fatto di non avere più i gradoni ma avere un ambiente su un piano unico a redi flessibili la possibilità di riconfigurare velocemente gli spazi ma anche di integrarli con tutto quello che serve dal punto di vista tecnologico con due obiettivi da un lato quello di sostenere tutte le possibilità di interazione tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti ma anche quello che si è reso evidente con la pandemia ma era già chiarissimo prima di sostenere quella che noi chiamiamo l'aula estesa perché nel momento in cui io chiedo ai miei studenti di tornare in aula perché le blendi dell'online non funzionano dovete tornare tutti in aula vi devo dare un banco per uno allora siccome non siamo in grado di dare un banco per uno la logica dell'aula estesa fatta bene dove davvero chi è in aula è in grado di interagire e di interagire con quelli che sono in presenza con quelli online e quelli online lo stesso non è una sfida né dal punto di vista degli spazi né delle tecnologie banale bisogna lavorarci molto ma se non lavori intanto sulle metodologie poi ti manca un pezzo e se queste cose che hai appreso non le codifichi e non le rendi disponibili per la comunità didattica probabilmente il processo con difficoltà si propaga vedete questi sono altri spazi che abbiamo attrezzato adesso con delle con delle aule di realtà di realtà virtuale ma anche qua il tema è stato esattamente lo stesso è stato quello di riuscire a dialogare con tutti i responsabili della della gestione di Lizia no della nostra della nostra università perché lo spazio fosse organizzato in un certo modo vedete che i banchi sono pochissimi perché per lavorare con la realtà virtuale ci vuole spazio intorno perché devi mettere il visore e devi poterti muovere in un certo spazio nello stesso modo ci vanno le tecnologie che devono essere di un certo tipo ma se poi io mando dentro gli studenti e dico fatevi un giro in questo twin in questo digital twin in questo ambiente di realtà virtuale che riproduce in modo super fedele l'impianto chimico super sofisticato se io sotto a questo non metto un approccio didattico strutturato non ho chiaro perché sono lì ad utilizzare quella tecnologia quell'ambiente sofisticato e qual è il mio obiettivo d'apprendimento e come ci arrivo usandolo probabilmente il circolo non funziona e per chiudere il cerchio con la questione dell'open education domani noi avremo un evento nell'ambito della Milano Digital Week in cui presenteremo questa esperienza e da domani mettiamo a disposizione con licenze CC BY non commercial per cui tutti li possono riusare riutilizzare mixare modificare fatene quello che volete i tutorial per gli studenti perché siano in grado di utilizzare bene i sistemi di realtà virtuale e gli oculus le logiche di organizzazione degli spazi e il vademecum di supporto per gli studenti nonché quello per i docenti come progettare esperienze didattiche in aula virtuale il tema delle tecnologie spesso visto come un driver di cambiamento va affrontato con la giusta come posso dire con la giusta distanza noi abbiamo fatto per esempio un grande investimento nello sviluppo di questo portale di corsi cosiddetti MOOC quindi aperti e disponibili a tutti di cui molti anche rimixabili e riutilizzabili secondo le logiche delle licenze Creative Commons ma anche in questo caso la sfida vera è quella di far rientrare queste percorsi nella didattica quotidiana quindi da un lato sono a disposizione di tutti e chiunque li può utilizzare ma anche sosteniamo i docenti perché riescano a ripensare una didattica d'aula che buttando fuori dall'aula quello che può essere sostituito del MOOC per esempio i momenti super trasmissivi in cui vengono raccontate raffiche delle cose funzionano molto bene anche sul MOOC e tengono invece in aula tutti quei momenti di scambio confronti esercitazione in cui il fatto non solo non solo la presenza fisica del docente ma soprattutto la presenza fisica degli altri studenti è cruciale perché noi è stato drammatico secondo me come è stato messo in evidenza durante la pandemia per noi continuiamo a vedere l'apprendimento come un processo che avviene dal docente allo studente la crucialità della relazione tra pari che è fondamentale anche all'università perché quanti di noi se la sarebbero cavata senza il compagno di banco col quale metti insieme gli appunti con cui fai gli esercizi con cui ti prepari l'esame la relazione tra pari è un valore importantissimo molto poco sfruttato nelle nostre aule durante le lezioni che potremmo sfruttare in modo decisamente più interessante in questo ecosistema tecnologico ci stanno tutto ci sono i portali dedicati i canali social le partnership con gli attori internazionali del digital education ci possiamo mettere assolutamente tutto ma sempre poi riuscendo a metterle insieme alle metodologie con la parola magica che ha detto Ligia Cangemi prima che è il progetto allora qua attraverso il progetto passa una una riflessione chiave che vi vorrei proporre e che in questo momento in cui abbiamo già a disposizione una quantità di tecnologia proprio quantità intendo di materiali e di infrastrutture software e hardware che arricchiscono i nostri le nostre istituzioni le nostre scuole ma anche i nostri territori molto spesso non dobbiamo assolutamente entrare in questo gioco della polarizzazione tra pro tecnologia e contro la tecnologia dobbiamo avere come nostro focus il processo di apprendimento allora una modalità con la quale proponiamo e tenerla insieme è quello di andare a sviluppare dei processi di progettazione che aiutano i docenti a tenere insieme tutti gli eventi di apprendimento che concorrono al raggiungimento di una conoscenza di un'abilità e di una competenza usando quelli che chiamiamo tutti i tasti del pianoforte vi faccio solo un esempio facciamo un esempio proprio più banale pensiamo all'evento di apprendimento dal punto di vista dello studente della lezione frontale che cos'è la lezione frontale dal punto di vista dello studente è un momento in cui raccolgo contenuti alcuni diventano mostruosamente abili nella scrittura automatica cioè non capiscono assolutamente gli passa attraverso però gli appunti sono perfetti altri invece magari fanno più fatica a prendere gli appunti ma raccolgono il più velocemente possibile durante la lezione noi l'abbiamo descritta dal punto di vista dello studente come raccolta di contenuti a bassa interattività io questa la posso fare con la lezione frontale leggendo il libro col MOOC col podcast a secondo di quello che è il risultato d'apprendimento il contesto e i vincoli e il docente potrà decidere dove andare a posizionarle così per tutto il resto ma quell'evento d'apprendimento mi può avvenire con modalità differenti in aula online sincrono online sincrono lasciato alla totale autonomia dello studente allora ci sono degli incroci che sembrano assurdi ma io posso pensare anche il MOOC in presenza nel senso che mettere cosa che noi abbiamo fatto più di una volta gruppi di studenti a studiarsi insieme utilizzando un contenuto digitale un tema e poi lavorarci subito insieme e caspita crea dei contesti estremamente interessanti però per arrivarci devo riuscire a gestire questa complessità con un'abilità progettuale non banale e questo secondo me è uno dei temi cruciali di riuscire a portare avanti tecnologie spazi e metodologie con una logica e con una policy di open education attraverso la crescita delle competenze nella progettazione didattica che usi tutti i tasti del pianoforte e spero di un messaggio è un'altezza di un'altezza perché altrimenti è molto difficile portare a casa il risultato perché è molto ambizioso e intanto voi pensate alla domanda che magari io lascio la parola alla professoressa Guglielmini per fare un suo intervento e intanto voi pensateci perché altrimenti le facciamo noi, non vi lasciamo andare via. Io sono uno studente, non sono un insegnante, però mi sono ritrovato molto quando ha parlato del rapporto tra gli studenti durante la lezione. Io per esempio durante la pandemia ho seguito le lezioni online con i miei amici su Discord, cioè con i miei amici in chiamata mentre commentavamo insieme alla lezione, ci chiedevamo le cose che non capivamo eccetera. Poi ho visto un'altra cosa che mi ha interessato abbastanza, in realtà in entrambe le presentazioni sempre questi spazi, è anche venuto fuori a un certo punto, molto vuoti, che non mi sembrano gli spazi che poi si vedono normalmente, oggi è un caso particolare, ma generalmente è pienissimo. Quindi l'organizzazione degli spazi, come è stato fatto vedere, mi sembra complesso con, perlomeno con gli attuali spazi. Quindi come si potrebbe passare a quelle strutture? Perché proprio lo spazio fisico in questo caso mancherebbe e questo mi manca anche a me, questa informazione. Grazie. Qui si è buttato una bomba, ma proprio di quelle, cioè nel senso che fa ingegneria o cosa fa ingegneria? Se non si entra in ingegneria, ok. Allora, qui secondo me uno dei grossi problemi è che non si affronta assolutamente il tema della formazione universitaria con gli strumenti, per esempio, della statistica. Cioè non si ragiona mai neanche sui numeri in generale. Allora noi in questo momento abbiamo 1.700.000 studenti iscritti all'università in Italia. Se facessimo un censimento dei posti a sedere disponibili nelle università italiane, cosa diremo? La metà, la metà. Magari, ecco, poco sopra, ma non tanto, non tanto sopra. Questa è una considerazione. L'altra considerazione importante, per riuscire ad avere la percentuale di iscritti all'università che in questo momento hanno mediamente gli stati europei nella faccia dai 25 ai 34 anni, che è il 40%, e che invece in Italia è del 20%, o qualcosa in più, 28, 27, 29, dipende dalle zone, ecco. Noi avremmo bisogno più o meno 700-800.000 studenti iscritti in più all'anno, quindi il 50% più di quelli attuali. Allora abbiamo la metà dei posti di quelli attuali e ne avremmo bisogno il 50% in più. Ma a quel punto lì non sarebbe più solo un problema di posti, ma anche un problema di risorse. Abbiamo un terzo in meno dei docenti che ci sono nell'università francese, per fare un esempio. Allora, come si quadra tutto ciò rispetto al fatto che una didattica è veramente attiva e collaborativa e che incide profondamente sugli apprendimenti, può avvenire spazi poco affollati, mobili e flessibili con il problema settato, come abbiamo visto prima. Questo è un tema che va affrontato seriamente. Teniamo però, e sicuramente l'utilizzo delle tecnologie, che non può essere considerato una soluzione marginale del problema, perché è un pezzo delle soluzioni che abbiamo lì vicino e che ci potrebbero aiutare. Ad esempio, io nel mio corso faccio così, cioè do la possibilità a chi vuole di seguirlo online e però lo gestisco in modo che tutti quelli che sono online e tutti quelli che sono in presenza possano interagire e collaborare bene insieme con me e tra loro. Io ho anche un'aula che me lo fa fare bene, però in questo modo io uso uno spazio in cui ci stanno 30 persone e lo uso bene e il corso sarebbe da 60. Altrimenti li dovrei far venire tutti belli pigiati in aula, che cosa succede? Che dopo tre lezioni ne vengono la metà per sopravvivenza. Ecco, quindi il tema andrebbe affrontato in modo un po' più sistemico, cioè è davvero un tema che andrebbe visto in una prospettiva sistemica e non può essere risolto dalle polarizzazioni pro-tecnologia, anti-tecnologia. Io girerei la domanda anche alle scuole, perché anche le scuole hanno più o meno lo stesso problema, sono strutture fatte già così e se noi vogliamo innovare non è che possiamo buttarle giù e rifarle. Sì, la fascia d'età ovviamente è diversa, le nostre scuole sono quelle che sono, con tutti i problemi che hanno, di architettura, di sicurezza, di spazi eccetera. È chiaro che scuole che, al pari dell'università, laddove gli spazi sono ampi e possono creare quelle possibilità di movimento, di confronto eccetera, sono sicuramente migliori. Ecco perché gli esempi che vi ho portato sono scuole che hanno capito che recuperare anche il corridoio, appunto perché anche quello è spazio di apprendimento, è ambiente di apprendimento, è un po' una soluzione. È chiaro che siamo anche di fronte a una crisi demografica che sta già arrivando e quindi che è già toccato le scuole primarie, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. È chiaro che gli esempi che noi abbiamo delle scuole, non so, la Vitra, tanto per dire la più bella scuola che esiste o altre scuole, non so, in Italia i CIM Modena 3 è una delle scuole più belle che esistano, sono scuole che hanno spazi ampi. Ora è sempre possibile, la mia scuola è, forse la conoscete perché è quella che sta nella serie SCAM, è la scuola dove sono nati i Maneskin, è una scuola di 5 piani del 1880, ovviamente intoccabile da tutti i punti di vista, meravigliosa, ma è quello che è. E quello del concetto del QCA è proprio, partiamo da quello che abbiamo, chiaramente auspichiamo che le scuole nel rivedere gli spazi, possono vedere anche per esempio tutti i giardini, le terrazze, i corridoi, questi sono tutti modi, è diverso l'università dei bambini, i bambini hanno bisogno di movimento e se le scuole riscopriranno che anche il resto è scuola, sarà molto bello perché si potranno trovare delle cose che prima non si facevano, chiusi nello stretto delle quattro mura di un'aula, però il problema è vero, la seconda bomba l'avete lanciata verso la scuola ed è verissimo, spingiamo il ministero a spendere meno sulle tecnologie e un po' più sugli spazi magari. Abbiamo scoperto che nella scuola di Lidia sono andati i Maneskin, direi che comunque, esatto, della giornata. Va bene, vediamo se c'è ancora un'ultima domanda. Io sarò una dei docenti che avrà a che fare con questo piano scuola 4.0 e ho la fortuna di avere una scuola enorme, vengo dalla Valsese in montagna, quindi spazio ne abbiamo un sacco sia dentro che fuori. Io invece volevo chiedervi un consiglio per come mitigare il rischio del turnover dei docenti, perché è bello avere gli spazi, le metodologie, le polisi e tutto, ma noi l'altro giorno ci hanno cambiato il docente di disegno da sotto il naso perché ci sono state le nuove nomine e quindi si ricomincia. Consigli? Magari qui abbiamo due dirigenti, esatto, forse lasciamo. Ma consigli non lo sappiamo esattamente. Diciamo che un piano dell'offerta formativa ben strutturato, deliberato dalla collega dei docenti, vale per tutta la scuola e chi arriva, per quanto possono permettere le competenze che ha, essendo magari, stai parlando di turnover, quindi immagino supplenti, insomma a tempo determinato, però la scuola, diciamo, l'interesse degli studenti, delle studentesse, quindi il piano dell'offerta formativa, vince rispetto al singolo. Ecco, questo dovrebbe essere un po', uso un condizionale perché... Sì, sono altre questioni sicuramente sul tavolo, speriamo sui tavoli giusti, credo, e quindi anche qui un po' di strategie didattiche possono essere utili, no? Quindi una co-docenza, adesso io sto inventando come in tutte le scuole si inventa la co-docenza, insomma, credo che alcune questioni debbano essere poi analizzate per bene, sicuramente. lì, vai, domanda. Domanda. Dirigente scolastica, sinistro comprensivo, 11 plessi, 1050 alunni, 170 docenti. Quello che manca agli istituti comprensivi è non la volontà di affrontare il cambiamento, perché sicuramente non la manca quello, ma la disponibilità di personale che si occupi della progettazione, gli istituti comprensivi non hanno competenze nell'ambito della progettazione, noi possiamo essere degli esperti di metodologia, prevenzione del BSA, didattica, ma sicuramente l'aspetto della progettazione, che soprattutto in un ambito così ben definito, dove noi dobbiamo poi, e lo vedremo con le linee guida, ma dovremo sicuramente creare un ottimo cronogramma con gli obiettivi e i finanziamenti arriveranno solo successivamente, magari a trovare l'obiettivo X, noi non abbiamo sicuramente un'accia di cassa per fare, no? E quindi lottiamo tutti i giorni con le stesse di docenti, con le math e quindi quant'altro, io quello che chiederei è alcuni format, no? Progettazione tipo X, Y, Z, di maniera tale che le scuole possano scegliere a quale format adattarsi per evitare che quello che succede delle scuole è 8500 scuole preparano la circolare a disposizione di inizio l'anno, no? Ma, obiettivamente, 8500 dirigenti spendono delle energie inutili su uno strumento che è indispensabile, ma lo facciamo 8500 volte all'anno e ripetuto negli anni. Allora, io dico, ma possibile che neanche nessuno si renda conto di quanto sprechiamo in energia, no? Utili ed altro, quando potremmo ottimizzare, no? Anche solo documenti pubblici. e poi un abbattimento enorme che è la burocrazia, perché spendere 150, non solo a stesse, ma 150 per digital volfor e calaggio, e io ho un calaggio, le reti di plan che è un po' di fare, è interrotto questo progetto, non siamo arrivati a conclusione per un semplice motivo, perché questa ditta, pur avendo buona volontà, è incappata in quattro contratti nelle scuole, i fornitori non gli fanno credito, per cui non riesce a comprare i materiali. Questo fornitore è fuori di 400.000 euro, ok? E io ho detto, beh, cioè, cosa facciamo? Non riescono più le ricoste, ho detto, mi lascio un po' di qua, inizia a chiudere il mio, per poter avere... Allora, io gli chiedo di forma, no? in maniera tale che possiamo farne l'una o l'altra, perché non abbiamo le forze professionali e in attività professionale. Grazie, grazie. Lavoreremo proprio, credo, in questa direzione. Certo, non è facile, ma in questa direzione. Su questo lascerei la parola alla Presidente Guglielmini per chiudere, anche proprio in linea rispetto all'attività che facciamo in Fondazione Scuola, e vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti e anche voi che ci avete ascoltato. Prego. Sì, chiudere, poi forse bisognerebbe dire aprire, no? Perché mi sembra che il tema e i temi in realtà riguardino il presente, ma soprattutto il futuro, è quello che però possiamo fare davvero ognuno di noi, come cittadino e cittadino, perché, come diceva bene Lorenzo Benussi prima, sono fondi che possono diventare una parte importante del debito pubblico del nostro sistema paese. Quindi è bene che si spendano e si spendano bene. L'idea della Fondazione per la Scuola è di, diciamo, accompagnare le scuole in questa direzione. Io riprendo solo proprio due parole che sono tutte quelle dette e quelle che sono importanti. Troverete le slide sul sito del Politecnico, quindi ovviamente sono consultabili. Mi è sembrato davvero fondamentale ribadire la questione che intanto il digitale è ormai estremamente pervasivo, ed è quello in cui noi viviamo regolarmente, non possiamo più parlare di un digitale come strumenti, qualcuno si ricorderà quando abbiamo incominciato qualche anno fa dicendo che la tecnologia era uno strumento per accompagnare la didattica. Siamo ben oltre, siamo sicuramente nella fase del digitale come ambiente di apprendimento. Qualcuno dice che siamo anche già in una fase in cui il digitale è trasparente, perché fa parte già della vita delle persone, quello on-life non è tanto riferito all'uomo, ma è riferito al digitale stesso che si interseca ormai con la vita degli uomini e delle donne. Quindi il digitale che c'è, quindi non è più la scuola e il digitale, probabilmente non incontreremo più dei ptoff in cui c'è la sezione del digitale, ma il digitale fa parte, così come la luce, l'illuminazione di ciò che saranno e sono i nostri ambienti. Quindi questo è il punto. Il digitale che però non è uno strumento e quindi impatta fortemente con quelle che sono le metodologie di insegnamento e di apprendimento. E gli esempi sono stati fatti, non mi dilungo, però anche Andrea Schleicher nelle ultime riflessioni rispetto alle ultime rilevazioni PISA ci presenta bene a livello internazionale come l'apprendimento di ogni studente dipenda fortemente dalla relazione con il docente. Quindi capite che il digitale abbiamo capito che c'è, lo usiamo, dobbiamo imparare a usarlo sempre di più, ma è il docente insieme con lo studente, ovviamente la seconda dell'età, che poi deve progettare. Questa enfasi sulla progettazione che poi diventa valutazione, diventa riprogettazione, è davvero lo snodo, uno snodo che ci auguriamo il Ministero sempre di più attenzioni per come i tempi anche della funzione docente sono dedicati alla programmazione, alla valutazione e quindi certamente c'è un insieme di architetture da rivedere, non solo quella dedicata allo spazio o al piano scuola 4.0. La Fondazione per la Scuola, come dicevamo, ha attivato una serie di sportelli, di consulenze, mi rivolgo ovviamente in particolare alle scuole, le università sono più autonome rispetto a questo, quindi questo è il nostro impegno, scriveteci, abbiamo una repository in cui abbiamo organizzato dei format, in cui stiamo raccogliendo un po' le esperienze anche in altre regioni italiane, perché l'obiettivo è quello, iniziare, continuare, impegnarci tutti perché questi fondi, non solo il piano scuola 4.0 ma anche per esempio il PNRR, quello che riguarda i divari territoriali, quella parte forse ancora più importante sotto alcuni profili, quindi quei fondi che sono arrivati in particolare a quelle scuole dove c'è una sofferenza importante rispetto all'insuccesso scolastico e alla dispersione, quindi è bene che questi fondi si utilizzino e credo che tutti e tutte possiamo e dobbiamo fare differenza. Quindi grazie ancora alle nostre relatrici, a Lorenzo Benussi e al Politecnico che ovviamente ha organizzato questa ulteriore occasione spinta, perché è vero che quando ci incontriamo e ci ridiciamo quali sono le priorità ne usciamo forse più convinti tutti e questo è il nostro augurio. Grazie.